amici bentornati a music challenge un saluto da mimmo e un saluto da vincenzo vincenzo oggi è una data importante perché inauguriamo un nuovo spin off di music challenge music challenge on the road noi abbiamo provato abbiamo voluto provare questa nuova formula di fare interviste di fare dei video per rendervi per mettervi ecco un pochettino a conoscenza anche di quelle che sono le nostre esperienze al di fuori del format music challenge beh certo vincenzo allora c'è da dire che music challenge nasce durante il periodo della pandemia quindi eravamo chiusi in casa quindi è chiaro che l'unico modo di comunicare è attraverso il computer continuiamo a fare attraverso il computer però è chiaro che abbiamo visto anche con le riaperture con i concerti insomma che c'è anche occasione di andare a toccare proprio la musica di andare a conoscere anche di persona gli artisti anche quindi di fare delle interviste dal vivo quindi on the road proprio sulla strada e allora vincenzo che cosa abbiamo fatto io e te così informiamo i nostri spettatori verso fine novembre ecco ci siamo avventurati in questo viaggio che ci ha portato diciamo verso il nord Italia per diciamo incontrare degli artisti intervistare gli artisti e diciamo conoscere oppure dei luoghi che sono cari o caratteristici proprio di alcuni artisti quindi che cosa abbiamo fatto abbiamo vogliamo elencarli questi luoghi allora ci siamo fermati subito vicino Ancona e chi abbiamo incontrato Vincenzo? abbiamo incontrato Marco Gratti una vecchia conoscenza di music challenge frontman dei Via Verdi che ci ha parlato del loro ultimo lavoro che è Shades of Red questo doppio vinile 45 giri questo 7 pollici e quindi abbiamo parlato di quello abbiamo parlato di The Time Machine abbiamo parlato di Diamond abbiamo parlato un po' dei Via Verdi della situazione Via Verdi con Marco Gratti col frontman bellissimo intervisto poi dopo di che siamo andati ancora più su siamo andati verso Sassuolo e che abbiamo incontrato verso Sassuolo Vincenzo? il simpaticissimo Alberto Bertoli con Alberto invece abbiamo parlato di Due Voci Intorno al Fuoco e questo album non solo anche CD è ora anche disponibile in streaming dove Alberto duetta con papà Pierangelo in alcuni pezzi che hanno fatto la storia del cantautorato di Pierangelo Bertoli e non solo questo album contiene anche un inedito che insomma ne parleremo durante quest'intervista con Alberto insomma non voglio preannunciarmi esatto poi Alberto che diciamo proprio reduce dal diciamo da un premio Bertoli straordinario straordinario che si è svolto appunto a inizio novembre a Modena al Teatro Storchi ecco dato che eravamo da quelle parti ci siamo messi in viaggio verso Pavana ecco Pavana è una frazione del comune di Sambuca Pistoiese nota per essere diciamo il paese di residenza di Francesco Buccini quindi abbiamo diciamo anche per diciamo come appassionati di musica ecco ci sono dei luoghi dove non si può non andare un po' come andare a zocca ecco diciamo i luoghi di Pasquale non può andare a Gerusalemme diciamo sono dei luoghi dove un appassionato di musica non può non essere non può non essere c'è quindi siamo stati a Pavana anche perché da poco sappiamo che è uscito insomma solo in formato fisico il disco Canzonita in corto l'ultimo album di Francesco Buccini e qui siamo andati a conoscere i luoghi storici dall'altro a Pavana adesso risiede Buccini ma era stato anche durante appunto la seconda guerra mondiale si era trasferito lì diciamo dai dai suoi nonni e quindi abbiamo visto ad esempio anche il mulino appartenuto alla famiglia Buccini e visitato insomma dall'esterno quindi un diciamo anche un viaggio posso dire tra virgolette di rispetto no per effettivamente per l'artista è importante diciamo conoscere effettivamente i luoghi che hanno fatto grande un artista maestro proprio della canzone italiana e assolutamente sono pienamente d'accordo con te proprio un viaggio di rispetto ecco io primo ironicamente ho detto come andare a Gerusalemme ma non è poi così così diverso perché si va a toccare proprio con mano quello che sono i luoghi descritti anche in alcune canzoni proprio di Francesco Buccini beh è come poi non andare ad esempio in un altro luogo simbolo luogo simbolo anzi sono due luoghi sono due paesini attaccati no quindi Cesenatico e Gattemare quando si parla di Cesenatico e Gattemare si parla di Casadei quindi di questa dinastia dei Casadei no che sono diciamo sui palcoscenici italiani da quasi cent'anni che riguardiamo da secondo Casadei a Raul Casadei e oggi a Mirko Casadei e quindi siamo andati a conoscere a vedere un pochettino i luoghi e lì Vincenzo vedremo tutto parla di Casadei lungo mare la stato il monumento e il nome della piazza si respira proprio si respira proprio là e quindi siamo stati qui è lì che si respira proprio la Romagna la Romagna permettimi di usare questo tenese questo nome questo perché effettivamente è una terra bellissima con dei luoghi meravigliosi gente meravigliosa e allora Vincenzo diamo il via a questa puntata e buon viaggio a tutti gli spettatori allora siamo qui con Marco Grati ciao Marco ben tornato ben tornato c'è anche Vincenzo qui dietro alla telecamera dopo vedremo anche Vincenzo allora Marco tu sei un amico di Music Challenge guarda cosa ti ho portato guarda qua no non so cos'è 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 ce lo spieghi tu questo è Shale of Bread questo è un lavoro da pazzi perché è l'unico doppio 45 giri del mondo probabilmente è la prima uscita di questo tipo perché di solito è anti economico fare questo investimento ma siccome questi dischi sono dischi molto di qualità altissima e quindi il nostro discografico non ha badata spese ha preferito fare un discorso di altissima qualità ma è anche alta qualità sonora perché è stato masterizzato in Germania in uno studio molto poco conosciuto no conosciutissimo che lavora già per grandissimi artisti molto più grandi di noi peraltro noi saremmo più piccoli in teoria ma nomi come Giammi Roquei, Depeche Mode, Muse, Mike Holfield, Moby, Madonna, SES e anche via vera adesso da oggi insomma per quel poco e per quel tanto e quindi anche l'audio se tu lo ascolti ti metti in cuffia ti accorgi che sei dentro un mondo diverso dal solito insomma un po' più vicino a Pink Floyd che gli altri esseri umani che gli altri esseri umani, Marco ci sono quattro brani, ora vogliamo ripercorrere un attimo i titoli di questi quattro brani allora anche una particolarità questo disco che ha sulla facciata A Show Your Face che è il singolo dell'album The Time Machine di masterizzato e nel lato B c'è The Beautiful Day che sarà la versione italiana di un singolo che abbiamo fatto nel 2016 o 14 ma non mi ricordo più 14 probabilmente pubblicato già ma è la versione cantata da Remo questa che uscirà come singolo anche lui poi c'è Freedom che è un altro lavoro un po' più diciamo duro come 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 e poi c'è una cover di Pink Floyd che è in The Earth Night che il riconoscivo dire che è cantata quasi a cappella da Remo e che è una parte di un altro brano che poi vi spiegherò la particolarità di questo disco è che B, C e D sono in coproduzione con i Real World di Peter Gabriel in Inghilterra quindi li abbiamo fatti in Inghilterra quindi li avete fatti proprio lì? io e questo disco perché io su mia idea del discografico che è completamente pazzo anche lui che tu vai a prendere il disco guarda un po' al lato A e legge cosa c'è scritto dietro cosa c'è scritto? che lato è il lato A? qua c'è il lato A vediamo allora vediamo un pochettino e dall'altra parte che lato c'è? allora questo è il lato A e dietro cos'è il lato? anche questo è il lato A il lato D al lato A e di qua eccolo qui ah questo è il lato D giusto? quindi c'è un lato A o un lato D? è un lato D quindi è A, D, B, C sono messi così in questo ordine e perché questo? perché è il dispettuccio? questo dispettuccio ci è piaciuto perché abbiamo incasinato la situazione ci piaceva molto questo e probabilmente E D, B, C sarà il titolo dell'album nuovo oh ma adesso c'è stata una grande anticipazione sai che allora Marco facciamo una cosa me lo apri proprio in diretta allora questo questo package è giapponese facciamo vedere di qua vanno ma vediamo un po' siccome 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 in Giappone non rubano i dischi in Europa evidentemente sì quindi questo piccolo velo che è copia del disegno che c'è sopra va sfilato viene sfilato e aperto il disco così questo è l'interno che è un capolavoro questo è un disegno? questo è il disegno siamo dello stesso disegnatore che ha fatto l'album e questo si rifà se tu vai a vedere su internet il video di era I'm losing you la versione inglese di questo brano che si chiama insieme a tutti i fondi oggi che è la versione italiana e c'era una storia di una bambina che trovava un libricino per strada un quadernino disegnato e dentro questo quadernino disegnati questo posto sperduto al mare è una cosa molto post atomica c'erano queste nostre brutte facce e noi siamo fantasmi del passato e quindi noi prendiamo forma per lei e lei si spaventa poi butta via alla fine questo libricino e abbiamo tutte le maschere ecco se tu vai a vedere in questo qui c'è una maschera che questa era la mia del lupo scusate il lupo è questa qua e questa qua invece è la maschera che aveva Glauco che è un altro demone queste maschere che abbiamo noi le dovremmo portare forse le porteremo anche dal vivo qualche volta quando faremo delle patti non lo so sono state fatte da un grande artista di teatro che fa queste cose sono maschere vere insomma che poi sono disegni molto simili stavi dicendo anche a quello del time machine è lo stesso disegnatore lui è sempre apri un po' il time machine aprilo dentro e questo se tu vedi ha fatto praticamente la mano si vede grazie il riferimento alla macchina che tu guardi la copertina qui c'è sempre l'isola è un'isola col mare se tu la vedi che fa riferimento all'isola di the time machine e qui c'è la faccia della bambina che ha trovato il libricino e le maschere perché sono questo tipo di lavoro quindi c'è un riferimento è un riferimento storico e quindi il tour è questo e questo sarà anche il pacchetto che esce per Natale questa duplice situazione stai anche anticipando questo insomma Marco qui tanta ciccia ma anche ad esempio quando è uscito il time machine è uscito anche il picture disco questo è uscito per la festa internazionale del vinile record store day è uscito in versione limitata questo picture per il 35esimo anno di Diamond eccolo qui questo è qua poi qua ci sono le nostre volute facce che non le guardate troppo se no ve le sognate di notte lui va strinco mi saremo lì saremo lì e questo è Diamond e sono quattro versioni di Diamond una fatta è la versione unplugged che abbiamo fatto a Sanremo da Monina in questo live che abbiamo fatto a Sanremo nel 2019 da Monina poi c'è Diamond la versione live e poi ci sono due remix di Diamond una fatta da Sergei Funk che è sempre primi classificati negli Stati Uniti che è un grosso DJ insomma molto importante allora aspetta Marco però allora io a questo punto passo la parola a Vincenzo dice prendiamo un attimo perché Vincenzo a proposito di Diamond ti devi far vedere una cosa sì allora Marco prendiamo un pochettino torniamo un po' indietro nel passato e parliamo di questo disco è questo facciamo vedere i nostri amici via verdi Diamond questo è storico perché questa copertina innanzitutto? perché c'è Verdi ah ecco quindi Verdi Via Verdi 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 era le mille lire le mille lire ricordi chi pensò questa copertina? Cecchietto ah fu proprio lui fu proprio lui qual è l'aneddoto che ricordi del del motivo per cui poi lui ha fatto questa copertina? ma guarda allora Via Verdi nasce all'inizio lui era un po' politicizzato era un po' Via Verdi praticamente era questo il senso suo Via Verdi invece ci era piaciuto a noi come tipo di 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 aggancio quella che è la cultura italiana perché se tu lo interpreti come Via Satellite è attraverso Verdi praticamente significa ho capito quindi questo significato ci era piaciuto molto è stata la corrente che ha vinto insomma diciamo questa discussione all'inizio capito quindi è nato questa Via Verdi perché poi si pronuncia allo stesso modo in tutte le lingue perché via è via in tutte le rigue però è inteso come Via Satellite non via street non è una strada è Via Satellite quindi attraverso Verdi quindi il nome è chiaro a livello internazionale certo è il motivo anche della copertina esatto questo è uscito in contemporaneo in tutta Europa cosa significa? siamo stati i primi artisti italiani distribuiti in tutta Europa lo stesso giorno o la stessa ora non era mai successo non era mai successo prima di fatti ho trovato due rare copie stampate una in Inghilterra e una in Spagna che ho comprato su internet quest'inverno si è spento qua non so se vuol dire quanto fa le ho ricomprate perché non sono trovabili perché non è che l'hanno stampata in Italia e mandata in Inghilterra in Polonia no no quindi in Stata ha stampato le sue dove c'era la sede della Warner della Wea e ognuno ha stampato la sua versione con la stessa copertina solo che una stampata qui e una stampata lì io ne ho trovate due che ho comprato quest'inverno appunto una spagnola e una stampata dalla Wea questa stampata dalla Wea italiana questa qui probabilmente sì Wea Italia esatto eccola qua io invece ce l'ho quella spagnola anche e quell'inglese vabbè se non ce l'hai tu lo trovate su internet non è che ce l'avessi senti invece ritornando a questo disco qua che è Shades of Red perché questo nome? perché il rosso allora veniamo da sto post-covid innanzitutto aspetta spieghiamo perché non tutti conoscono l'inglese Shades of Red che cosa significa? sono ombre di rosso tinte di rosso ombre di rosso sfumature di rosso quindi questo rosso è energia è forza è fuoco è la forza è la potenza è il rosso quindi questo discorso di questo rosso ci era piaciuto tanto è l'idea mia naturalmente come tutte le altre perché io ho la direzione artistica per cui tutti i titoli che vedi tutti i testi li scrivo io quindi c'ha tutto un comune denominatore ok quindi e quindi insomma adesso ho optato per dare non è che avesse bisogno di un titolo questo disco però ho pensato è un EP perché è un doppio 45 giri tra in inganno perché sono 4 brani però un EP c'ha 4-5 brani se vai a vedere anche se è stampato il 12 pollici cioè questa versione è grossa come l'album cioè di solito l'EP è stampato in 12 pollici come questo certo qui invece è stato suddiviso e c'ha 4 brani difatti anche questo ha 4 brani però è diviso su 2-45 giri da qui i costi elevati di questa produzione che assolutamente per gente amante insomma che vuole il bel suono vuole la bellezza non è da un suono quello dei Via Verdi una musica quella dei Via Verdi che si rifà molto a quelle che erano le melodie degli anni Ottanta insomma rimasta un po' forse ancorata a quelle melodie là che che spazio trova in un contesto che è quello di oggi del mainstream cioè una musica completamente diversa il problema è tutto italiano innanzitutto oggi perché quello che va è italiano perché all'estero quello che va in Italia non va quindi c'è un mercato a sé noi siamo dei compositori e non è che si rifacciamo la musica degli anni Ottanta noi l'abbiamo fatta la musica degli anni Ottanta è un po' diverso e quindi facciamo vedi ti spiego una cosa che mi ha fatto capire Monina grande giornalista grande scrittore Monina è il più grande scrittore di musica italiana cioè ha scritto 84 libri proprio quello su Vasco Rossi il più grande artista è un caro amico sta a Milano ma di origine se sei fuori dal mercato come il nostro la mia è una scelta la nostra è una scelta di stare fuori dal mercato anche cioè io non cerco di andare da Maurizio Costanza a me non me ne frega niente onestamente ti spiego il perché perché noi abbiamo venduto milioni e milioni di copie in tutto il mondo e abbiamo fatto un conto ad occhio così torrivo a aver fatto ballare circa da un miliardo di persone grosso modo quindi chi ama Via Verdi ci sono già quello che devo fare io non è che devo farmi un pubblico il pubblico ce l'ho già solo gli devo dire oh guarda che io sto qua sono qua ti ricordi di me capito mi devo far vedere in tal senso quindi devo cercare fra i miei non in televisione cioè i miei quella televisione là non la guardano cioè a me di andare a fare una cosa Sanremo non me ne frega niente non è quella cioè le migliaia di persone che facciamo durante i concerti stanno sotto le 4 mila persone non siamo andati mai abbiamo fatto sempre un sacco di gente è gente che viene per noi perché comunque c'è un legame diretto con noi è sempre di più perché poi c'è un passaparola visto quello là capito il disco fate quel chicco e quindi noi non abbiamo bisogno di rapportarci a niente per questa grande fortuna merito non lo so fate voi però sicuramente noi siamo noi e tirerò di più mi sono accorto ultimamente che siccome la diciamo cioè noi veniamo dagli anni 70 anche se facciamo parte di una contenta artistica molto precisa che si chiama New Romantic che nasce in Inghilterra nella seconda metà degli anni 70 che è da David Bowie tutti copiano lui vanno lì vedo che ne nasce i Roxy Music Culture Club Spada Ballet che ne so cioè noi veniamo da quel tipo di cultura là perché questo si chiama New Romantic perché veniamo effettivamente da Romantic che è la musica degli anni 70 fatta dai Genesis Yes e tutto quel popolo delle bestie musicali che erano questi grandissimi immensi musicisti chiaramente noi siamo una generazione dopo perché veniamo dieci anni dopo grosso modo ora cosa succede che ci siamo mi sono accorto durante un'intervista per caso un'intervista con un giornale molto molto grosso che ci ha chiamato e che è il giornale ufficiale di uno che sta bene adesso non lo dico perché magari io non l'avevo capito effettivamente la portata a restare l'intervista perché di solito fai un'intervista a un quarto d'ora a venti video un'ora un quarto un'intervista comincia a essere un po' impegnativa perché ho detto ma guarda ti mando un presente ti mando un disco mi pare il minimo una quarta intervista fatta capillare dice no no guarda che noi ce l'abbiamo tutti vi sosteniamo poi viene fuori un giornale ufficiale dei Genesis a che ho capito cavoli cioè questi vecchi vecchi non sono più o non ci sono più purtroppo o non fanno più niente per quanto riguarda l'Italia tutta la PFM che ringraziamo Dio ancora è bella in forza e ancora fanno le belle cose e qui ci sono noi quindi abbiamo ecco perché il concerto di oggi di Via Verdi è più tra virgolette sinfonico perché si rivolge anche a quel tipo di pubblico un po' più diciamo con la puzzettina sotto il naso a livello musicale oggi è un po' più oggi c'è il ragazzino io vado a registrare il real world di Peter Gabriel che ha dei suoni della madonna ok ma il ragazzino cosa fa? prende il cellulare con un orecchio sole sente così che cavolo ci sono andato a fare io da Peter Gabriel a fare questo lavoro cioè non ha nessun senso perché è cambiato tutto però noi abbiamo questo tipo di velleità oggi non vai a sentire non vai ad ascoltare oggi vai a vedere quello vai a vedere quell'altro capisci? oggi è un discorso più legato all'immagine al vedere al guardare è un discorso diverso non dici più manco noi diciamo sono andato a vedere Vasco Rossi sì non vado ad ascoltare ok qui c'è proprio una c'è un cambiamento e secondo me questo è un termometro molto importante di quello che è successo ecco c'è un discorso che a noi non ce ne frega niente noi siamo dritti su alta qualità sonora ci ascolti stereofonia è un'alta stereofonia ti trovi in cuffia ti fai sto viaggio chiudi gli occhi e fai i viaggi a chi piace a chi non piace fa altre cose senti Marco ma a proposito di viaggio abbiamo parlato di questa ti faccio un po' questa è la mia ultima domanda abbiamo parlato di Diamond della copertina abbiamo parlato della copertina con Mimo di Shades of Red del titolo di Shades of Red perché questo titolo qua a questo punto mi viene da chiederti perché The Time Machine ha quel titolo la macchina del tempo perché mi chiamò una grossa cosa del caso di storia italiana io chiaramente sono andato a questa riunione quattro anni fa cinque forse e mi fa mi rifai Diamond e ho detto come ti rifaccio Diamond perché non me la rifai e come faccio a rifarti Diamond dove la trovo la stessa strumentazione è cambiato tutto non c'è più e guarda sarebbe una grande idea perché secondo noi la dobbiamo ripubblicare detto questo poi non l'ho data a quella casa discografica lì ma ad un'altra perché non sono andato d'accordo per tante cose a una che secondo me era più vicina alle nostre esigenze e effettivamente abbiamo fatto questo Diamond è venuto un capolavoro che è quello che è qui qui non c'è Diamond da allora c'è Diamond rifatto adesso è uguale ma non è uguale infatti l'abbiamo chiamato Live Version perché effettivamente è quello che facciamo dal vivo senti proprio le chitarre ma è uguale è uguale e c'è una chiusura che guarda invece finisce sfumando e finisce proprio con uno stacco ok poi stavamo facendo quest'album nuovo e siccome dal vivo facevamo già You and Me ma dal vivo You and Me dura un quarto d'ora cioè molto suonato molto il tempo c'è pure questo a questo punto però c'erano i pezzi nuovi qualcuno durante e questi vecchi e sembravano tutti fatti cinque minuti prima e allora ecco la macchina del tempo cioè nel senso che la macchina del tempo è qualcosa che va a spasso fra tutta questa produzione è un concept album dunque tu chiudi gli occhi ti fai tutto questo viaggio tu parti tu ti metti in cuffia veramente c'hai mezz'ora non dura tantissimo è stata una scelta perché deve essere un viaggio che lo devi andare a riascoltare subito non è che non mancassero i brani abbiamo scelto di non andare oltre i 40 minuti perché quando dura 35 non dura tantissimo perché tu ti metti in cuffia il tempo non ce n'è se tu c'hai mezz'ora per te te lo fai tutto dall'inizio alla fine ti fai un viaggio della madonna e lo vuoi sentire riparti da capo questo è The Time Machine e anche il tour non a caso poi c'è l'orologio disegnato un po' di vene un po' di vene un po' di vene questo grande disegnatore che ci segue e che continua a fare le nostre copertine di dischi allora siamo con Alberto stiamo facendo Alberto Bertoli stiamo facendo l'unpackaging del suo ultimo album c'è la sua ultima opera long plane long plane healthy hai notato che se noi dobbiamo dire qualcosa di importante lo diciamo in inglese no for sure in English for sure in English for sure già sto trovando difficoltà nell'aprirlo perché sono molto emozionato allora innanzitutto partiamo dalla copertina Alberto sì e raccontiamo subito un aneddoto che mio figlio quando piccolo quando gliel'ha fatto vedere no mia moglie e lui gli ha detto mi piace mi piace molto questo mostro molto bello ed ero io e così dunque qui è rappresentato Pierangelo ovviamente e Alberto ovviamente il mostro perché chi ha pensato di l'immagine Mauro Ballotti una specie di genio come tutti i geni si rintana quindi è difficile è difficile farlo venire fuori dalla sottana però eccolo qua è bellissimo tutto anche all'interno è meraviglioso e l'ha fatto con molto amore si vede senti prima di entrare nel disco ecco io mi voglio soffermare sul dito due voci intorno al fuoco beh il fuoco è sia il fuoco il focolare di casa no il focolare come si dice domestico domestico e sia fuoco è la una canzone che io preferivo da mio padre di mio padre quando ero piccolo e che caccia la volpe che io chiamavo fuoco e quindi insomma due voci che siamo noi intorno al al nostro amore che è la musica ma anche la nostra famiglia allora entriamo un po' nel disco è bellissimo io lo sto vedendo per la prima volta allora avviamo facciamo vedere c'è una fotografia che è meravigliosa questo penso che sei tu si questo è papà questi sono gli anni 80 a casa nostra formigine e queste sono polaroid vere che Mauro ha veramente riprodotto e portato qui ovviamente essendo foto familiari come vedete sono tutte foto di compleanni perché non è che uno all'epoca non è che avevamo il cellulare e ti fai una foto quando vuoi no prendi il rullino fai 36 foto e dopo è finita quindi insomma questo è quanto e qua ci sono i ragazziamenti ma la cosa mi tengo di più in realtà è questo piccolo editoriale che ho fatto che è un discorso con lui un discorso con lui che ora leggerlo ora no non lo leggi ora però lo leggo lo leggo sicuramente dopo prima di passare qui poi ci sono dei ringraziamenti sto vedendo c'è ora il ringraziamento più grande a Mario Limongelli che è che è una specie di angelo che ho trovato anzi che ho fatto trovare Caterina Caselli infinite grazie a mio papà per tutto quello che è stato se ti fosse rappresentato effettivamente tuo papà assolutamente niente infatti ci hai scritto grazie a papà beh insomma tante cose difficile condessarlo in un discorso mio padre era per me ed è ancora una luce e un faro sia dal punto di vista lavorativo e dal punto di vista etico insomma che è difficile dirtelo io ho fatto questo disco qua perché volevo evitare proprio questo tipo di domande è inutile no ma nel senso è inutile che io vi parli di un ricordo di mio padre cioè la cosa migliore che posso fare è cantarlo cantare con lui è la cosa migliore per farvi capire quanto io tengo a lui perché nelle voci si sente quello che provi e quindi secondo me il disco è qui per quello ed è quello che hai fatto con questi per altri perché contengono qualcosa da mauro ha fatto della roba che meraviglia ragazzi dai ma allora scusate io ripeto sono molto emozionato perché è veramente un disco meraviglioso l'unica cosa dove non ci siamo trovati io e Mauro è che lui avrebbe voluto questa foto qua più grande messa qui dentro e io ho detto ma proprio la foto dove è bianco no è un bellino allora è un classico che invece ci sia nelle immagini anni 70 80 insomma la foto del bambino seduto sul vasino che manca avrà questa è vero infatti dietro no dietro ci sono altre foto vedete questa è l'ultima foto diciamo che ho recuperato vedi fuoco ha il plettro con scritto fuoco meraviglioso un'idea di Mauro bellissima questa è una delle delle foto questa foto l'ho recuperata una settimana prima che andassi in stampo ci dici ti giuro e poi qui che sono praticamente questi sono i testi questi sono i testi scritti da mio padre autografi questi e questi sono quelli che che scrissi io perché io scrissi il suo testo perché doveva entrare all'interno del cilino che poi invece non fu mai realizzato e dall'altra parte invece troviamo delle altre foto questa forse è la foto che preferisco bellissima e qua siamo a San Marino che preferisce mia moglie qui ci abbiamo un solo inedito che è Star con te che è Star con te è una canzone che rimane qua c'è scritto purtroppo è tagliato ma primavera 2001 noi la scrivemmo per il suo ultimo disco e quindi è l'ultima cosa che io conservavo con mio padre di mio padre insieme che ho fatto con lui e conservarla così per me basta mi sembrava un po' una stranzata quindi ho deciso di pubblicarla la scelta delle canzoni è dovuta al fatto che il cd è fatto tramite un cd della bmg che si chiamava una voce tra due fuochi quindi la scaletta è per forza quella lì se no ci avrei messo forse un altro paio di canzoni forse avrei tolto un paio di quelle più blasonate forse avrei tolto Pescatore ad esempio no Pescatore non l'avrei tolta perché in questa versione qua non l'avete mai sentita perché mio padre fa la parte della donna però in terza persona cioè dille dille tu signore e non lo so quale avrei tolto forse sarei stato lì e mi sarei pugnalato però ci avrei messo dentro una strada e suonando la chitarra che sono due pezzi a cui io sono molto legato forse anche così perché Musoduro è è molto violenta è un pezzo che appunto mi rappresenta molto che ci violenta da tutto il vista poetico e che ci insieme insomma siamo siamo a Musoduro è la cosa che mi unisce di più a lui però così è la rappresentazione proprio poetica di mio padre è la canzone che sicuramente lo ritrae meglio e Alberto poco prima dell'uscita di una voce due voci intorno a un fuoco esce anche questo cd che si può trovare solo in ridicola no questo è uscito in con tv sui canzoni si chiama i sogni miei non li spengo mai ma è uscita anche non so quando ma ti giuro che torno che è questo cd qua più altre due tracce di un concerto che fece dal vivo allo Storchi il 25 aprile del 2001 e qui ci sei anche un brano di quale brano Alberto? beh spuntano una dal mod dove io facevo la sardina e c'è anche qua un editoriale mio che ho scritto per spiegare come mai avessi scelto proprio questo cd qui questa registrazione scusami qui ed è ed è dovuta al fatto che il 25 aprile per noi era una specie non una specie era più importante che Natale insomma quindi per noi il 25 aprile è importante e questo cd ne sancisce la cosa quindi i sogni miei non li spengo mai due voci intorno al fuoco più il premio Bertoli per ricordare gli 80 anni dalla nascita di Pierangelo e le 20 anni dopo che premio Bertoli è stato quest'anno? beh è stato molto pesante sia emotivamente che dal punto di vista organizzativo però molto bello e io l'ho apprezzato molto io sono stato molto contento l'ho apprezzato l'ho fatto io insomma sono molto contento di come sia andata è stata molto stancante mi ci è venuto un po' per riprendermi però l'anno prossimo torneremo a fare spero una cosa simile va bene grazie Alberto ciao grazie ciao Francesco Guccini pubblicata qualche giorno fa è questa Canzoni da Intorto un album pubblicato appunto solo in formato fisico in versione LP noi abbiamo la versione con due LP in edizione limitata oppure in su CD in streaming non è presente Canzoni da Intorto il titolo dell'opera di Francesco Guccini è stato voluto è stato pensato da Raffaella la moglie di Francesco Guccini proprio perché intorto significa un po' intortare imbonire portare a proprio favore circuire e sono delle canzoni che Francesco ascoltava da quando era bambino quindi diciamo praticamente delle cover di canzoni ecco appunto della giovinezza di Francesco Guccini ascoltate durante la giovinezza di Francesco Guccini noi abbiamo due versioni abbiamo detto quella in album doppio LP quindi dove abbiamo sia le versioni strumentali che quelle con incisione diretta a differenza del CD dove abbiamo soltanto l'incisione diretta da sempre Casa Dei è sinonimo di Romagna e oggi ci troviamo all'interno della Romagna quindi sul Gomare di Gatteomare molto vicino a Cesenarica attaccato a Cesenarica dove anche c'è il famoso recinto Casa Dei qui tutto parla di Casa Dei lo vediamo già da questo monumento dedicato a secondo Casa Dei e alle parole ai versi che sono eterni di Romagna mia Romagna Romagna mia lontan da te non si può stare Romagna è anche una panchina ci ricorda uno dei versi più famosi in questa notte stellata la mia serenata io canto per tu siamo nel cuore della Romagna come ci ricorda questo cuore e quando parliamo di Romagna parliamo di Casa Dei qui tutto parla di Casa Dei guardate un pochettino questa piazza a chi è dedicata la celebrissima Romagna che si sveglia con un sorriso sul piale che collega Viatteo Amare con Cesenatico troviamo Telsi di Romagna capitale celebre canzone che è entrato unirno a questa terra e a tutti i romagnoli composta da Raul Casa Dei e dal figlio Mirko Casa Dei e allora Vincenzo come è andato questo viaggio beh è stato un viaggio meraviglioso ora al di là di quello che sono state questa prova che abbiamo voluto fare music challenge on the road è stato un viaggio veramente pieno di emozioni di sorprese e il fatto di aver toccato ripeto ciò che dicevo all'inizio con mano di essere di aver vissuto questi luoghi cioè Senato che insomma Gatteo di aver vissuto Pavana veramente ti riempie l'anima in particolare a chi veramente ama la musica e allora io penso penso che music challenge on the road ce lo faranno capire anche gli spettatori sia uno spin off di music challenge che avrà un seguito e quindi prepariamo le valigie per il prossimo viaggio che non so quando sarà però insomma mentalmente ci prepariamo per la prossima puntata di music challenge assolutamente un saluto a tutti e buon piano ciao a tutti al prossimo ciao ciao a tutti ciao a tutti Grazie per la visione!